Aumentano i casi di contagio da coronavirus covid-19 sul territorio imperiese. Un turista bergamasco di 86 anni che alloggiava in un hotel di Diano Marine è risultato positivo al tampone ed è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Sanremo. Il resto della comitiva di cui faceva parte è già rientrata nei luoghi di residenza e l'albergo è stato chiuso alcuni giorni fa. Sono scattate le procedure di quarantena per le persone venute a contatto con l'anziano. Sono finiti in quarantena anche due medici dell'ospedale di Sanremo, e un medico di famiglia che erano venuti a contatto con il paziente di Bussana poi deceduto. Uno dei tre pazienti ricoverati a seguito del contagio diffusosi negli impianti sportivi di Ponte d'Assio è invece uscito dal reparto di animazione ma altri due residenti del capoluogo della Valle Impero sono risultati positivi al virus anche se sono in quarantena a casa e stanno bene. Sempre in Valle Impero si sono posti in isolamento volontario una cinquantina di persone di diversi paesi che nei giorni scorsi avevano preso parte a una cena di compleanno sempre a Ponte d'Assio. Oggi purtroppo è morta una paziente genovese di 91 anni che era ricoverata all'ospedale San Martino con patologie multiple cui si è raggiunto anche il covid-19. Infine sono stati ufficializzati due casi di contagio anche nel Principato di Monaco con entrambi i pazienti ricoverati in ospedale. Grazie. Grazie. Grazie.